Il derby tra Fiorentino e Livorno al settimo vantaggio degli Amaranto con Protti che fugge dalla metà campo e lascia partire un violento tiro che tocca il palo alla sinistra di Sejas e si insacca. Alla mezz'ora il pareggio definitivo di Riganò. Per entrambi i realizzatori si tratta dell'ottavo gol stagionale. Il Livorno conserva il quarto posto in classifica in virtù anche del contemporaneo pareggio senza gol del Torino.